BELLA A TUTTI RAGAZZI BELLA A TUTTI RAGAZZI Dovevo ponciare io Ma chi se ne frega BELLA A TUTTI RAGAZZI QUI GANDAL LEGOLAS E GIMLI E SEMO QUI CON QUESTO NUVO VITO STA VALTROVALO GENDA Che cazzo stiamo Allora No allora Vi portiamo uno sciame Di sole piastrine raga Allora Prima di tutto Lo sciame di piastrine È una cazzata Non si può fare da solo E però Quello no È molto divertente Fatelo anche voi Ve lo consigliamo Sì sì non è una cosa impossibile Infatti noi non diciamo Voi con chi ha fatto Allora aspetta No no c'ho i nomi qua C'ho il prospetto Allora L'abbiamo fatto Io utilizzavo un altro account Che voglio salutare È un grande Quando lo uso io Perché altrimenti non è forte È ALZAZO Aspetta un attimo Allora Ero io sta partita Perché vi porto sempre io Stai partita Già ero il 25 Modestamente vi porto io Stai partita Io sono Sono il meglio Ragazzi Ragazzi Il live streaming Basta sti live streaming No 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 Di Legolas lo dovete guardare Perché farà morire Comunque Allora raga Volevo Introdurvi Siamo in un gruppo da quattro Siamo in un gruppo da quattro Allora siamo in un gruppo da quattro Eravamo io che stavo facendo Girold ALZAZO che era ALZAZO che era ELSES in quel momento Poi Uesimo 97 non so chi cazzo è Però lo saluto Grande Simo io sì che ti conosco Yuri 146 Li voglio dire Ma tu vuoi un po' di droga Questa gliela volevo dire Perché me lo dicesimo Salutiamo Yuri Kuto E passiamo alla classe Allora raga Allora è una classe Allora io stavo utilizzando Lo scudo antisommossa Perché è quello per forza Poi Inflessibile Antischegge Sciacallo Per riprendermi le due scosse Elettriche Oltre il limite E maschera tattica Oltre il limite Non so perché l'ho messo È un video molto divertente Dicelo Legolas Diglielo oppure io Io non cedo che cazzo dico Vabbè Comunque la tattica Era stare in casa Stare in casa Ebbè Mi cava di giro come un coglione Aspettare che gli altri Uccidano i nemici E lasciare le piastrine a Gyrold È divertente Perché se volete Mandateceli anche Però non penso che Ce li mandiate Vabbè Sono in 50 Aspettiamo un attimo 52 Non voglio tralasciare nessuno 52 Quando facciamo sto video Magari sono 53 Poi quando li facciamo O 51 E infatti Comunque Comunque raga No veramente Non è un'impresa impossibile Non vogliamo vantarci Perché stiamo facendo sto video Ma è soltanto per divertimento Perché Fa veramente ridere E fare un video di genere No si perché gli scleri Sono belli Quando quando dici Dammi sta cazzo di piastrina Così E poi Soprattutto muori Quando sei a un passo Dal traguardo Infatti Infatti questa è la No non ci abbiamo neanche messo tanto A farlo È la seconda volta Due partite ci abbiamo messo Questa è la seconda Sì Qua mi ero cagato addosso Si era cagato addosso E qua prendo lo sciame raga Finalmente lo sciame di piastrine Si stavo facendo Infatti quanto cazzo Ero morto vai È morto Ero 07 Ero morto 07 Ero morto 0 7 volte 0 uccisioni Ma allo sciame Guarda ero eccitato infatti Coltellavo Eccitato Vabbè comunque ricompense UAV naturalmente consiglia naturalmente perché dicelo te dicelo tu perché UAV perché perché Vissar perché vi va a vedere i nemici ma UAV perché UAV perché perché vi fanno vedere i nemici perché UAV Vissar vi fanno vedere i nemici naturalmente quindi voi sapete dove sono e li incurate poi lo sciame perché 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 è la cosa che dobbiamo prendere è lo sciame perché poi aspetta le persone le abbiamo già ringraziate le classi le ha già dette volevo prendere un doppio sciame anche però non so come cazzo finiscono un doppio sciame è impossibile era solo al UAV questo oh sono in serie per il doppio sciame anche se sono al UAV non per fregare comunque no comunque che cazzo è sta roba abbiamo provato a fare il video di Madafaka ragazzi ma non ci è venuto ci hanno bloccato sul più bello no no ragazzi non abbiamo già detto fidati lo dobbiamo fare ci hanno rattristato tutte queste chiave web no zitto zitto che è la chiave web non è che vengono qua cercati se volete la mia chiave web è quella che ho appena detto il mio amico se volete 20 centesimi ragazzi iscrivetevi iscrivetevi 20 centesimi il video è già finito qua Gyrold si blocca per non farsi più ammazzare no perché stavo contattando qualcuno mi sembra contattandolo stavo scrivendo a un mio amico che aveva preso lo sciame di piastrine e lo stavo sfottendo perché lui non ci è mai riuscito vaffanculo Corrado vaffanculo Corrado è merda salutiamo Orazio che c'è ora è il momento di salutare anche voi sei tu che è bloccato è il momento di salutare anche voi qua mancano aspetta e voleva ringraziare no niente ringraziamo il prossimo video mi sa no comunque bella ragazzi gandalf gandalf legolas legolas e gimli ciao 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 ciao